L'attacco hacker ai server dell'ASL1 ha mandato in tilt le attività dell'ospedale San Salvatore ormai da due giorni. Un problema non di poco conto che dalle 4 di notte di due giorni fa appunto ha fatto smettere di funzionare tutto il sistema informatico dell'ASL1, dunque non solo l'ospedale dell'Aquila, anche gli altri afferenti, più i distretti sanitari del territorio. I danni sono enormi perché seppur l'ASL abbia chiarito che i dati sanitari sono al sicuro, praticamente non si può fare quasi nulla. Non si possono richiedere i ricoveri, non si possono controllare gli esami, non si possono richiedere i tamponi. Non è possibile ovviamente avere risultati degli esami di laboratorio dei pazienti ricoverati e neanche in rianimazione, dove il monitoraggio deve essere giornaliero, anche il laboratorio analisi evidenti difficoltà. Le visite si possono fare, ma va scritto tutto a mano, senza mettere nel sistema. E la cosa ancora più grave è l'attività di pronto soccorso, praticamente bloccata perché tutto è telematico. Ovviamente pure la prenotazione delle visite e il pagamento del ticket al CUP è bloccato. Il disagio si va di bene, non è soltanto per l'utenza, ma anche e soprattutto per i medici e gli operatori sanitari. L'azienda sanitaria ieri pomeriggio ha emesso una nota spiegando che i dati sensibili sono al sicuro. La nota inviata ha chiarito che è stata fatta un'analisi tecnica sui server aziendali, definendo l'area da cui sono partiti malware. Nessun dato sanitario, ha spiegato l'ASL, lo sensibile è stato trafugato o perduto. L'archivio informatico, insomma, è integro. Da quel che si apprende l'attacco molto grave, non si capisce come e quando, soprattutto, si riuscirà a far ripartire il tutto. Spesso ci sono state lamentele per la lentezza e i blocchi continui del sistema informatico, ma l'attacco, che non era prevedibile, sta creando davvero disagi inimmaginabili.